Una polca di tinta e dolina e pace. Allora, Teresa! E anche quella, come si. E anche quella, come si. E anche quella, come si. Come si. Come si. Come si. E adesso, una composizione del mestro Carlo Petturi. Il mestrello per tutti gli amanti della presentazione. Come si. 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 Come. Come si. Come si. Come si. Come si. Come si. Come. Come si. Come. come. Come si. come si. come si. come si. Come. come si. 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 Grazie a tutti.